Siamo a una palestra di Pescara Fight Club in Gym e stiamo organizzando un evento a livello internazionale qui nella città. L'evento sarà composto da varie discipline, perciò partiamo dal MMA, le Mixed Martial Arts, al Box, al K1. Ci saranno vari incontri con vari titoli a livello sia nazionale che internazionale. Questo evento è importante sia da un punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista medico-riabilitativo. Io sono il medico che segue questi atleti qui a Pescara del Fight Clubbing e l'importanza sia nella preparazione per questo evento ma nella preparazione di tutti i giorni è fondamentale. Non solo, è uno sport che mette a dura prova tutto l'apparato muscolo-scheletrico, quindi ci occupiamo degli atleti sia a livello preventivo ma soprattutto nel trattamento di questi traumi che sono importanti e spesso richiedono dei lunghi periodi di recupero. Quindi la massima collaborazione tra atleta, medico e fisioterapista è fondamentale. Ormai è un connubio che va avanti da diversi anni. Abbiamo raggiunto dei livelli importanti sia con gli atleti che hanno vinto dei titoli importanti e sia dei risultati medici, devo dire, altamente eccellenti.